Avevano occultato la droga anche nel cruscotto di un'auto, in un vanno ricavato nel blocco contachilometri, trasformato in una vera cassaforte dove gli agenti hanno trovato un chilogrammo di droga e ben 40.000 euro in contanti. Se ieri le indagini della squadra mobile di Modena avevano portato ad un ingente sequestro di marijuana a Reggio Emilia, oggi è successo il contrario. Con gli agenti le indagini della squadra mobile di Reggio Emilia che partendo dal capoluogo sono arrivate ad un appartamento di via Fossamonda a Modena dove era stata allestita un'importante centrale per lo stoccaggio, il confezionamento e lo smistamento di droga. Un alloggio monitorato da tempo perché lì numerosi pusci e reggiani si recavano per acquistare cocaina ed ascis. L'operazione della polizia di Reggio Emilia condotta con la collaborazione dei colleghi di Modena è scattata ieri mattina al momento dell'arrivo di un'auto nei pressi dell'abitazione, alla quale poco dopo si è avvicinato l'uomo proprietario dell'appartamento che dopo aver consegnato qualcosa all'uomo alla guida ha ricevuto in cambio due involucri. Il blitz è scattato in quel momento. Le unità della squadra mobile da un lato hanno bloccato l'auto entrata nel cortile condotta da un cittadino albanese di 25 anni residente a Forlì e dall'altro sono entrati nell'abitazione monitorata. All'interno vi era un uomo di 45 anni, marocchino, che aveva con sé proprio uno dei panetti consegnategli poco prima e contenente un chilogrammo di cocaina. L'altro panetto, sempre da un chilo, era stato già aperto e l'uomo stava procedendo al taglio e dal confezionamento della cocaina in sasso. Nell'appartamento gli agenti hanno rinvenuto anche due chilogrammi di Ascis. L'ispezione è continuata nell'autovettura condotta dal 25enne albanese e stando da un primo controllo non risultava nulla all'interno. Dalla successiva ed accurata ispezione svolta in questura emerso un piccolo tesoretto. In un vano nascosto ricavato nel cruscotto ed accessibile, asportando il quadro contachilometri e contagiri, erano occultati un panetto da oltre un chilogrammo di cocaina e poco meno di 40.000 euro, con tanti sottovuoto. Sulla scorta di quanto accertato degli agenti, entrambi i soggetti sono stati tratti in arresto ed associati al carcere di Modena a disposizione dell'autorità giudiziaria.